In questi giorni si sta svolgendo la ventesima edizione della rassegna Tindari Teatro Giovani Rosario Parasiliti, organizzata dal liceo Vittorio Emanuele III di Patti, dal comune pattese, dal parco archeologico di Tindari e dall'assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo. Una kermesse teatrale che coinvolge molte scuole del territorio messinese e nebredeo e che si concluderà giorno 20 maggio a mezzogiorno con lo spettacolo fuori concorso della scuola organizzatrice, mentre nel pomeriggio lo spettacolo della scuola vincitrice, sezione senior e le premiazioni. È una rassegna concorso dedicata al professore Rosario Parasiliti, un professore di filosofia e storia che ha fortemente voluto il teatro, è venuto a mancare qualche tempo fa e quindi adesso questa rassegna è dedicata a lui. Dopo i due anni di pandemia, noi abbiamo già ripreso l'anno scorso, il 2022, abbiamo fatto la diciannovesima edizione, questo quindi è il secondo anno di ripresa dopo la pandemia. Dalle scuole partecipanti anche il liceo Manzoni di Mistretta, che ha rappresentato con alcuni studenti del classico e dello scientifico una rivisitazione dell'Apologia di Socrate. Abbiamo ricevuto l'invito a partecipare a questa manifestazione, a questa rassegna del teatro di Tindari, teatro giovani e diciamo era un po' nella tradizione della scuola di partecipare a questa rassegna perché 10 anni fa circa la scuola, il liceo ha partecipato con un'opera, con una tragedia, con Medea, poi abbiamo partecipato un anno con la Shoah, insomma quindi era un po' nella tradizione dell'istituto. I ragazzi si sono subito appassionati a questa vicenda di Socrate appunto che decide di morire nonostante avesse anche la possibilità di salvarsi e questa cosa ha aperto un dibattito che è molto attuale come problematica e quindi nel momento in cui ci è stata chiesta la partecipazione abbiamo deciso di riportare quest'opera. I ragazzi hanno tirato fuori risorse che noi conosciamo ma che proprio così coniugate e messe in campo tutte contemporaneamente hanno stupito positivamente anche tutti noi che li abbiamo seguiti durante le prove. Quindi il Manzoni di Mistretta ha portato in scena un'opera classica che nel contesto di un teatro greco come quello di Tindari è divenuta ancora più suggestiva e coinvolgente. La regia dell'Apologia di Socrate è stata curata da Claudia Di Pasquale. Ora io di base sono teatro terapista quindi il mio approccio è soprattutto al mondo interiore del personaggio intendendolo non solo come personaggio ma proprio come persona ed è questo il lavoro che faccio con i ragazzi, avvicinarli a teatro nel senso farli diventare il personaggio, fare in modo che questo personaggio venga fuori da loro piuttosto che sia qualcosa di imposto di cui devono vestire i panni. Per i ragazzi della scuola Mastratina un'esperienza a dir poco emozionante. Ci siamo proprio intercalate nei nostri personaggi infatti durante queste prove non abbiamo provato solo lo spettacolo ma abbiamo provato proprio a immedesimarci nei nostri personaggi e speriamo di aver soddisfatto il nostro pubblico. È stato tutto molto interessante, abbiamo capito cosa c'è dietro una rappresentazione teatrale, il duro lavoro che non è soltanto il copione ma ben altro. Condivido tutto quello che hanno detto le mie compagnie e ringrazio soprattutto la regista che ci ha supportato per tutto questo lavoro. Allora è stata un'esperienza bellissima, nuova per tutti e voglio ringraziare tutti e spero sia piaciuto.